Informazioni utili per affrontare il tratto crono. Qui ci sarà il tappeto con il microchip. Primo tratto a tutta in piedi. Qui seduti, spiana, riprendiamo fiato. Ultimo tratto di nuovo a tutta in piedi. Finita la salita, gli ultimi 500 metri in piano. Ma qui le gambe saranno già di legno. Ma ci saremo divertiti. Informazioni importanti. Il tratto crono sarà sorvegliato dal nostro personale. Ma la strada non sarà chiusa al traffico. Per cui, occhio!